Ciao, sono Andrea Gottardo di Exibo, Product Manager per quanto riguarda i prodotti Sennheiser per installazioni. Oggi vi abbiamo presentato quello che è una novità per Sennheiser, la versione 2 del TeamConnect Sealing, quindi l'evoluzione di quello che è stato lanciato un anno e mezzo fa da Sennheiser. La caratteristica principale del TeamConnect Sealing 2 è quella di avere un fascio di ripresa della voce dinamico e automatico. Ciò significa che io posso muovermi all'interno della mia sala meeting durante la mia conferenza e il microfono mi segue. Quindi passiamo da una filosofia dove siamo noi a dover cercare il microfono per poter parlare ad una filosofia, ad una situazione dove è il microfono che cerca noi per farci parlare. Le caratteristiche tecniche importanti sono uscita audio-analogica e digitale in protocollo Dante, rindondante, quindi con doppia uscita Dante. L'installazione può essere fatta in diversi modi, in diverse maniere, o appoggiata a soffitto o integrata nella controsoffittatura in modo da avere una controsoffittatura completamente lineare, oppure con dei tiranti in acciaio o con VESA 100% o 200x200. dotato di luci per determinare lo status del microfono, quindi microfono acceso, microfono in mute, luci che se dovessero dar fastidio possono anche essere eliminate completamente. Disponibile da aprile.